Incidente stradale nel tardo pomeriggio di domenica 28 luglio sulla 2-2-9 a Pettenasco. Ad essere coinvolti un'auto ed una moto. Nel sinistro sono rimasti feriti un ragazzo ed una ragazza stranieri, che erano stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Nel corso della notte fra domenica 29 e lunedì 30 luglio, invece, le... News 24. La tua nuova tv locale. La tua nuova tv locale.